Ciao a tutti, vediamo in questo video la tattica seduttiva della bella senza anima. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, innanzitutto chi è la bella senza anima? Ma è una donna bella appunto che è cinica nei sentimenti, cioè tende a vedere l'uomo come un bancomat, come una fonte di regali, questa è la tattica che utilizza fondamentalmente la bella senza anima. Cioè questa è la tipologia di donna, diciamo, che tattica usa la bella senza anima? Beh, la bella senza anima si sceglie un gonzo e poco dopo se ne procura un altro e fa in modo che il gonzo 1 sappia dell'esistenza di gonzo 2. Qual è l'obiettivo? Ebbene, l'obiettivo è che il gonzo 1 non sarà più sicuro della bella senza anima e il gonzo 2, diciamo, vivrà una forte competizione di gonzo 1 e sentirà fortissima la sfida per riuscire a prenderla. E quindi a questo punto la, diciamo, la sfida è aperta ed entrambi i cavalieri cercheranno di fare, dare il meglio di se stessi per, diciamo, la principessa. Peccato che la principessa è la bella senza anima, che ha solo interesse a spolpare, diciamo, i cavalieri. Ovviamente per essere una bella senza anima deve avere attitudini al cinismo e attitudini al non coinvolgimento e vedere veramente gli uomini come se fossero di successo. E il tuo successo, invece, sentimentale, sarà direttamente proporzionale alla mancanza di fiducia che ispirerai. La tavola della legge dice che il dubbio moltiplica l'amore. Prima di, diciamo, diventare bella senza anima, però renditi conto che alla fine queste relazioni ti porteranno poco. Diciamo che ti porteranno, potrebbero portarti molto su un piano materiale, perché una bella senza anima che si rispetti riesce a ottenere diversi risultati, regali di lusso, viaggi esotici, scenate di gelosia, insomma riesce a ottenere cose di questo genere. Però, alla lunga, succederà una cosa che senza anima resta, ma invece la bellezza passa, per cui, piano piano, inizierà a essere scartata e questo, alla lunga, appunto, il tempo, diciamo così, non ne renderà forse merito. Però, diciamo che nel breve, medio periodo, può essere una tattica vincente per una donna per ottenere delle cose dagli uomini. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram di Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di qui di posto, link in descrizione. Ciao a tutti.